Signor Reed Signor Reed Signor... È il mio avvocato, lo so, non è molto urtodosso, ma ti ci abituerai Signor Reed, voglio presentarle a Kenneth Falk, l'uomo della registrazione È come se lo conoscessi Salve, come va? Sono capitato nel settimo girone dell'inferno, la ringrazio, e lei? Signor Reed, non dovremmo controllare la nostra testimonianza? Praticamente il piano è analizzare il lastro magnetico, orgasmo dopo orgasmo Io farò delle domande Sì, lei farà delle domande e noi le daremo le spiegazioni che si è inventato Esatto, cara Dobbiamo solo mentire Una tattica semplicissima Non trovate? E poi terminerò con una drammatica serie di domande tipo, che sono? Mi dica, signor Falk, non è forse vero che lei è la signora Cole? Non l'avete mai fatto? Mageleschi